Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo un tutorial di Mulaga. Oggi sono nella mia spanza da letto, quindi se volete, cioè se notate che è un po' diversa è per questo. Oggi faremo il tutorial di Mulaga, spero che si senta. Iniziamo. Prima dovete fare così. Tipo per dire, noi siamo Mbappé, perché questa qui è la mossa di Mbappé. E poi questo qui con questo. Poi quattro pistole in su, un, due, tre, quattro. Poi LL, girate così e poi di nuovo così. Niente, mi viene andato a un messaggio ancora. Vabbè. E adesso facciamo il tutorial vero. Mulaga è il tuo devuto a Mulaga. Io sono Mbappé, LL qui. Pistola per quattro. LL qui. Ok. Voi vi dovete ricordare questa sequenza per fare così. Ovviamente non dovete dire, io sono Mbappé. LL qui. Pistola per quattro. E LL qui. Magari, o lo faccio silenzioso, oppure lo faccio così. Mulaga è il tuo devuto a Mulaga. Fa so, è fatiave, bodi su Mulax. Fatiave, dica Mulax. Ah, vai. Comunque questo si ripete per due volte. Perché ho visto che nella canzone vera si ripete per due volte. Ed è proprio l'ultima frase. Poi Mulaga, la canzone vera, ha tipo due minuti o tre in più. Non si sa perché, però. Ora lo faccio completo. Mulaga è il tuo devuto a Mulaga. Fa so, è fatiave, bodi su Mulax. Fa so, è fatiave, bica Mulax. Ah, no, perché? Vabbè. Ciao.